Grazie a tutti quanti voi, ci avete rotto le palle, ora è il momento di cominciare a farlo sul serio. In consul c'è Francesco Zappalano. E' bello, è meraviglioso ancora. Per la pace, per l'amore e per la libertà. E tutto questo accade quando, folletto della musica, raccontaci quei sogni. Noi crediamo ancora a Babbo Natale. E nella notte di Natale, aspettiamo. Lo facciamo piano piano e aspettiamo. E' la tua risposta definitiva. E' la tua risposta definitiva. Grazie a tutti. 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 Noi anche a Natale facciamo l'amore. Noi anche a Natale. Noi anche a Natale facciamo l'amore. 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 Francesco! 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 Noi anche a Natale facciamo l'amore. 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 Francesco! Francesco mette la musica per te! Noi anche a Natale facciamo l'amore. 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 Francesco Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti